Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video Oggi andremo a vedere la prima eruzione d'aria fredda autunnale che investerà l'Italia tra pochissime ore Ma lasciatemi dire prima due cose importantissime La prima è che tantissimi di voi, moltissimi, guardano i nostri video e non sono iscritti Per voi è un piccolo gesto, ma per me fra differenza Come potete ben vedere ben l'86% di voi guardano i nostri video ma non sono iscritti E se tutti voi vi iscrivesti saremmo molti molti di più La seconda cosa è che iscriversi è gratis, inoltre iscrivendovi e attivando la campanella Arriveranno direttamente le notifiche sui vostri dispositivi così da rimanere sempre aggiornati Detto questo andiamo subito a vedere come sarà la situazione e come si andrà a strutturare Ebbene in questo momento aria abbastanza calda, anzi molto calda per il periodo Sta ancora interessando le regioni dell'estremo sud La Sicilia soprattutto ha temperature tipicamente estive Per quanto riguarda il centro e nord, le temperature soprattutto sul nord ovest sono tipicamente autunnali Con valori massimi che non vanno oltre i 25 gradi Per quanto riguarda invece le coste dell'Adriatico e anche parte del nord est Qua le temperature sono già un po' più alte con valori massimi che però non vanno a di sopra dei 28 gradi Estremo sud massimi ancora che stanno arrivando fino a 36 gradi Quindi temperature veramente molto molto alte per il periodo Ma tranquillizzatevi perché la situazione tra poco cambierà Come si può vedere anche da queste immagini una fortissima eruzione d'aria fredda Di origine tipicamente autunnale proveniente dal nord atlantico Farà ingresso sulla nostra penisola a partire dalla giornata già di domani Durante poi il 23 quest'aria fredda farà ingresso su tutta l'Italia Portando a diminuzione termica da nord fino a sud fino anche a 10 gradi Valori massimi che non andranno oltre i 23 gradi su quasi tutta l'Italia E soprattutto sulla Sardegna e la Sicilia qua la diminuzione potrebbe anche essere oltre i 10 gradi Il maltempo Andiamo subito a vedere come sarà la situazione per quanto riguarda il maltempo Instabilità che già a partire dalla giornata di oggi sta interessando l'Italia Ma tra cosa cambierà veramente tra poco Perché instabilità si inizierà a far sentire più intensa soprattutto a partire dalla giornata di domani Come possiamo vedere precipitazioni molto abbondanti Si dovrebbero andare a formare lungo le coste del medio alto tirreno Interessando prima le coste liguri soprattutto quelle di Levante E poi la Toscana Instabilità che si farà anche abbastanza intensa sulle regioni del nord est Quindi interessando i mila Romagna, Veneto, Friuli, Trentino e anche il nord della Lombardia Qua la neve potrebbe scendere a quote al di sotto dei 2000 metri Localmente arriveranno fino anche a 1700 metri Per ora la quota non è ancora ben precisa Per quanto riguarda invece poi il proseguo di questa fase di maltempo A partire dal 23 l'instabilità si inizierà a far sentire anche abbastanza intensa Soprattutto sul centro-sud Come si può vedere da queste immagini L'instabilità che si farà localmente anche a carattere di possibile nubifragio e temporale Andranno a interessare gradualmente le regioni del centro e sud Italia Una regione che non sarà colpita in maniera molto particolare dovrebbe essere la Sardegna La sua fase di instabilità più acuta si dovrebbe registrare tra il tardo pomeriggio del 22 di settembre E poi durante la nottata che va tra il 22 e il 23 Instabilità che poi invece andrà a raggiungere l'estremo sud durante la serata del 23 E anche nella giornata del 24 Precipitazioni potrebbero esserci lungo quasi tutta la costa adriatica a Chiazze Instabilità che invece rimarrà ancora sul nord durante la giornata del 23 Mentre il peggioramento ci sarà sul sud E poi a partire dal 24 il tempo inizierà a migliorare anche con ampie schiarite Poi a partire dal 25 è stabilità che continuerà a persistere al sud Perché questo minimo di pressionare si sposterà verso la Grecia Ma comunque mantenendo precipitazioni e un clima tipicamente autunnale Per le regioni dell'estremo sud Quindi con valori massimi non al di sopra dei 26-27 gradi E localmente anche delle precipitazioni Quindi amici del sud il caldo estremo è finito Il caldo africano con tutta probabilità possiamo dire che è finito Ci sarà solamente alta pressione ma non più Con il caldo intenso che abbiamo avuto in questi giorni Se vogliamo andare a vedere anche la neve Come si può vedere da queste immagini Nevicate che non saranno molto abbondanti all'inizio Ci si registreranno precipitazioni nevose Soprattutto durante la giornata tra il 23 e il 24 Lungo le Alpi di confine della Lombardia e del Trentino Comunque i accumuli non saranno molto ingenti Non andranno al di sopra dei 5 cm Bene questo è tutto vi ringraziamo della visione Questa è la situazione instabilità localmente anche intensa E rischio di forti precipitazioni lungo le coste del Medio Alto Tirreno E poi lungo le coste del centro e del sud Italia Vi ringraziamo ancora una volta della visione Invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale Lasciate un mi piace e attivare la campanella Per rimanere sempre aggiornati Grazie Grazie.